Professoressa Poggi, proprio mentre sta per essere ricostituito il nuovo Consiglio regionale del Piemonte, il ruolo della Regione nel contesto di una riforma annunciata a livello nazionale, riforma del Senato, che dovrebbe dar vita alla cosiddetta Camera delle Regioni? Sì, io mi auguro che dopo questo appuntamento elettorale il tema delle riforme e della Camera delle Regioni riprenda fiato. Riprenda fiato e finalmente venga affrontato in una maniera organica e complessiva. Che cosa voglio dire? Voglio dire che finalmente venga affrontato avendo come prospettiva incidere in qualche misura sul ruolo dell'Istituto regionale in Italia, perché noi oggi siamo sostanzialmente in mezzo a un guado e quindi dobbiamo decidere una volta per tutte, una volta per tutte, come in fondo è stato fatto per le province con la legge del Rio, No, no, dobbiamo decidere una volta per tutte che ruolo e che peso vogliamo dare alle Regioni nel nostro sistema. Indubbiamente costruire la Camera delle Autonomie come Camera a prevalenza regionale potrebbe avere un ruolo decisivo sulla costruzione e sulla definizione del ruolo regionale, perché in questo modo sostanzialmente si diminuirebbero i poteri legislativi delle assemblee regionali, ma nel contempo si aumenterebbe molto consistentemente il ruolo delle Regioni come co-legislatore nazionale insieme allo Stato e quindi tutta una serie di temi che oggi sono temi che aprono conflitti Stato-Regioni sulla divisione netta delle competenze diventerebbero terreni invece di co-legislazione e questo sarebbe sicuramente un passaggio importante. È chiaro che se invece la Camera delle Autonomie diventa un istituto senza anima e senza una definizione compiuta, anziché fare, cioè voglio dire, se mettiamo tutto insieme, mettiamo nella Camera delle Autonomie sindaci, rappresentanti delle Regioni, rappresentanti nominati dalla società civile, rappresentanti nominati dal Presidente della Repubblica facciamo un istituto che non ha né capo né coda e non solo non contribuisce alla definizione del ruolo delle Regioni ma ci fa fare tre passi indietro rispetto alla situazione attuale.